bella a tutti ragazzi ecco un nuovo video io sono matti arella e oggi siamo a fare un video su gta 5 online allora sto facendo faccia a faccia con uno è abbastanza bellissima cioè è bellissima questo qui mi vuole prendere ma tanto non ci riuscirà mai non invece sì non 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 andiamo via no Issa Io Issa Ora c'ho da andare Allo santo costume C'ho da andare allo santo costume Perchè Cambiare un po' le note Perchè sono Proprio Ipe Allora Io vedo tre con la taglia Avevo deciso Di 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 prenderle Già prima l'ho preso uno Con il lanciarazzi Ho spiegato i due di razzi Un che l'ho preso e mi ha dato mille solo Basta Ecco uno con la taglia lì vicino Allora Cerchiamo di prenderlo Allora Direiamo di qui ora Bello lui Bello 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 La mettiamo Il mitraglia Eh no La mitraglia La mitraglia La mitraglia Dov'è? Ecco No mettiamo La mitraglia Però dov'è? Strunzo Allora Aspettate Eccolo là Eccolo là Eccolo là Eccolo là Nessuno lo sa E io mi sto andando lì vicino Ok Non c'è nessuno con lui Quindi è meglio andare Cerchiamo di fare un po' di scocci Tanto mi sta seguendo uno Ecco Allora Eccolo là Eccolo là Tagliamo di qui Ragazzi non sono così tanto forte Sono di livello 15 Mi sto per sborcare le granate Vabbè Naturalmente l'ho iniziato da quanto? Da tre settimane Due Oh Ma mi è passato lui davanti Mamma mia Arriva lui Arriva tutto lui Mattia Dai L'ho ucciso L'ho ucciso io No L'ho ucciso lui No Fuck No L'ho ucciso lui E' questa qui Comunque Lo cerchiamo Di ucciso Allora Allora Uno che ha la taglia L'avevo visto uno prima Ecco 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 Uno con la taglia Uno con la taglia Non ce l'è più comunque Lasciamo stare Bella Lei Bella Questa auto Però mi sto sperando Ah Guardi su uno con i lancerazzi Ah Invisibile lui Quindi facciamo bene Ecco infatti Ah L'ha ammazzato un altro L'ha ammazzato un altro L'ha ammazzato un altro E noi cerchiamo di rubare La sua auto Bella Eccolo Eccolo Sta avvicinando No Ci uccide Per poco Ragazzi 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 la mia mamma Non sta Non sa tenere in mano Un telefono Per cinque minuti Eccolo 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 Da dietro Che kill Ah Ma è tutto Di d'angolo Sì Bello 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 Non lo voglio io Lo voglio io Posso salire Grazie Bello Bello Carattreci Boh Ho schiacciato In pieno Mi butto Perché fa schifo Questa auto E non voglio Altri Cazzini Allora Aspettate Allora Io Lo Cazzo Sono Ito No No Voi De De Li strezza Per Li stressa Per due Seonti Alla mia Arma Voi De Mettere Chiede Non Vite De Cioè Che posso Guadagnare Stramilioni Eccolo Ito Ghi Avvi Cesare Un po' Altri Poi Pi Fito Pi Fito Allora Quindi Andiamo Ad Ammonation Ammonation Qui vicino Ci sono C'è 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 Dov'è Ma siccome Qui passano Tanti Boh Ehm Mo 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 Ma Io Mamma Mamma Con Mitra Queste cose Del genere Vorrei Farò Anch'io Ehm Non Mi Importa De Te Ti Stai No Non Mollare Ehm De Ragazzi Non c'è Nessuno Si Ci sono Tutti Laggiù Eh Si O Gicina De Andiamo Un po' Più Avanti Che c'è Ehm Oh De Cici Cici Oh Oh Asmetti A Youtube Questo De Oh Oh Mo De Voi Adetti Io Ti chiedi Youtube Ecco Allora Ragazzi No 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 Ma Capisci Ora No Voete Eccolo La Davidino Che gli puzza Il pisellino Pam E lo becchiamo E poi Lo ribecchiamo Un altro Con un rumore Un po' Stranuccio Pam E non lo Uccidiamo Perché noi Siamo Nerd Ehm Che c'è Un lido Ehm Sti bug Papi Talibabatoo Allora Allora Ehm 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 Un video Deve durare Massimo Massimo Allora Aspetta Farò Un'altra Uccisione Oppure In diretta Comprerò Delle Granatine Le puzze Le puzze Le uccelline Ehm 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 Aspettate In diretta Ehm Papa Aspettate Oh Dai Sti bug Sti Sti Casi Casi Sti 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 Bug Bapì Talibabatoo Ciao No Allora Andrò D'ammunation E compro Una macchina No scherzo Eccolo L'ammunation Più vicino Qual è Qual è Qual è Che Palle La mia Mamma Madonna Santa Oh Fa Se non lo rifai Miratelo Oh Un po' Più Lontano Mi vedo Oh Cioè A lei In pratica Le devo fare Le scommesse Tipo Se Faccio Questo Video Vado A letto Che palle Non voglio Fa queste Scommesse Le devo fare Per Youtube Aspettate Aia Sti bug Non ti muovere Come l'altra Horta Dei Di Allora Ora Tra Quattrocento Metri Girare A destra No scherzavo Con la mia mamma I video sono fatti bene Cioè mi ha fatto fare il giro della morte In pratica La vangula Aia Aspettate Allora guarda C'è uno solo Guarda entro da Munation Cazzo dico No via Ho sbagliato Non devo andare da Munation No Devo andare Sto però e andrò dopo Allora siamo arrivati da Munation Ora andiamo da Munation E compriamo le nuove granatine Tin tom tin tom Le nuove granate Ho vedo l'ora di Per sbloccare le veste Serve il rango 19 Sono quasi al rango 19 Allora Ora le proviamo solamente Solamente una Perché non voglio sprecarle Perché sono tirchio Comunque Le proviamo solo una Proviamola in questa bella casa Qui Proviamolo Perfetto Penso che vanno benissimo Allora Per questo video È tutto Ricordati di mettere un like Un commento Passati dalla pagina Di Facebook Instagram E Youtube E ci vediamo Con questa bella rapina